eccoci eccoci tornati andiamo immediatamente andiamo velocissimo andiamo da luca ruocco uno scrittore ciao luca ciao buonasera luca ti abbiamo beccato in una situazione difficile tu sei a roma immagino vero una roma si è un pomeriggio complicato tra sciopero dei mezzi e pioggia sono rimasto un po per strada però sono qui con voi e sono contento è la stessa cosa per alessandro reggis attore l'abbiamo visto alle iene fa tantissime cose ciao alessandro ci sei anche tu buonasera a tutti sì sì confermo i disagi di roma di oggi traffico pioggia io ho avuto la fortuna di fare un po di cazzoggi presso la relazione il tabloid e loro mi hanno ospitato ti hanno ospitato e ti sei salvato luca invece un po più sfortunato oggi perché lo vediamo adesso che è rimasto intrappolato in un portone sta facendo il collegamento da lì quindi stoico perché c'è il diluvio a roma in questo istante luca ovviamente non può uscire ci proviamo ci proviamo lo teniamo per pochi minuti luca ha fatto una cosa bellissima perché era bellissima perché racconta i vampiri e i piccoli amici dell'horror alessandro ascolta un po che storia da raccontare luca con questo denti da latte raccontacelo un po esatto è un libro che appena uscito è uscito il primo dicembre con vacca e monolab in tutte le librerie e gli store online ed è proprio un primo approccio all'horror e allo spaventoso per i più piccoli amici dell'horror si parla di vampiri si parla di altre creature delle tenebre ma si parla anche di della storia di crescita di accettazione del giovane protagonista vali che si trova a dover crescere insieme a un papà vampiro che è bella i due si conosceranno in una maniera un po rocambolesca e burrascosa ma piano piano cominceranno ad apprezzarsi l'un l'altro quindi diciamo che è un horror mascherato buono beh sì è una storia sicuramente per lettori giovanissimi è un horror che viene raccontato in maniera grottesca anche ironica e sicuramente ci sono anche dei buoni sentimenti all'interno ma si tratta sempre di vampiri quello sì luca ruocco è anche un critico cinematografico giusto sì sì ho fondato più di dieci anni fa un portale dedicato alla cultura horror del fantastico che è ingenere cinema punto com però parli comunque anche di altri generi cinematografici sì 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 parliamo di tutti i generi sì assolutamente perfetto allora guarda luca siccome io a me dispiace che sei fermo lì in quel in quel in quel portone possiamo dire non ti preoccupare io ne approfitto ne approfitto per chiederti se ci possiamo ritrovare la prossima settimana se sei a roma vienici a trovare studio ci provo ci provo altrimenti altrimenti lo facciamo così anche perché vediamo una signora che sta scendendo adesso e sta tornando a casa dietro di te ovviamente se ci racconti anche qualcosa parliamo anche di cinema parliamo anche di altre cose ti chiedo è già in pre order il libro ovviamente quindi si può già ordinare il libro era in speciale vero si è in pre order sul sito di bachemono lab ma da ieri si può trovare anche in libreria e in tutti i store online ma è un libro che devono leggere direttamente i bambini o glielo leggono anche i genitori perché i bambini purtroppo non leggono più e i genitori non leggono più storie bambini è un libro che è pensato per i più piccoli è sicuramente una lettura curiosa anche per i per i grandi e quindi possono leggerlo insieme assolutamente ancora meglio assolutamente bene questa è una cosa importante bachemono lab edizioni è una casa editrice che attinge alle sue venature bar dark ovviamente quindi editrice esatta per questo libro leggo anche che c'è un po di no sense principi le tenebre con ironia vengono raccontati e poi i protagonisti sono i vampiri perché proprio i vampiri ma guarda è una storia che che è nata proprio da una leggenda che da cui mi è partita proprio l'idea cioè che ogni cento anni un vampiro venisse scelto da un dalla volpe volante che è un grandissimo pipistrello realmente esistente in natura per diventare genitore e da questo poi si si è nata tutta la storia sono di due protagonisti il bambino vali e il padre bella che inizialmente lo rifiuta e e mi piaceva raccontare proprio la storia dell'adventrarsi di un giovane di un bambino all'interno di del mondo dei principi delle tenebre che più o meno è lo stesso viaggio che farà il giovane lettore quindi un bambino è il protagonista un bambino una bambina potranno essere i lettori entrambi si addentreranno in questo mondo abitato da vampiri e da altri mostri e conosceranno approcceranno all'horror al genere che che conosciamo bene certo certo luca grazie per essere stato insieme a noi ci vediamo presto in studio allora me lo prometti grazie a te ma te lo prometto sì grazie mille e buon rientro nella tua abitazione con questo delirio che è la capitale oggi meno male che io stacco tardi da lavoro caro alessandro reggis sì 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 alessandro io purtroppo ti sento bassissimo hai delle cuffie a disposizione no non ho le cuffie allora guarda avvicinati avvicinati un pochino allo schermo se poi c'è una bella chiacchierata allora alessandro ti do del tuo ovviamente perché io certo certo ti do del tuo sono contento che sei qui per anche perché sei stato anche in altre trasmissioni di queste emittenti ti conosciamo anche per altri emittenti nazionali come noi grandi comunque no come mediaset anche perché sei un attore delle iene di scherzi a parte anche se non sbaglio hai fatto qualcosa vero sì ne ho fatto uno a scherzi ecco più più alle iene ecco alle iene io ricordo uno scherzo ben preciso di cui sei il protagonista fatto a indovina chi a paolo di canio io in quel momento ho detto ora ora c'è sti due si picchiano da un momento all'altro c'è mancato poco ma poi c'è dopo che succede in quel momento quando vedi le brutte che fai sapendo che era uno scherzo francesco gestito la situazione quindi cercavo di comunque mantenere la sticella della come dicevo di cercavo di tenere la situazione in mano anche perché lui era molto incavolato e poi lui c'è un'anima molto litigiosa molto forte tu sei tipo su della roma è certo sì senti ma mi vuoi raccontare qualche aneddoto in qualche scherzo che ti è capitata la cosa più particolare sono tanti proprio tanti 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 guarda uno che mi viene in mente oddio d'aneddoto dio me ne so capitalmente tanti forse a chi ha bellinelli che è successo l'ha visto mai tu quello marco bellinelli esatto io faccio il capo della banda io praticamente lì è successo un casino sono arrivati i carabinieri veri un casino bene senti allora la tua carriera d'attore come inizia raccontaci un po la tua carriera d'attore alessandro e niente mi sono nel 2017 perché sono venuto delle iene per fare uno scherzo a roma e hanno conosciuto il studio mi hanno scelto poi conosciuto gli autori e tutta la storia insomma e tutte adesso insomma un po storia ecco bene e adesso scherzi fai gli scherzi e sei conosciuto come quello degli scherzi anche in linea di massima anche se ho fatto altre cose voglio dire è racconta ce le racconta ce le ho fatto quel percorso ho fatto che di talmente questo io so principalmente il traduatore poi ho conosciuto loro ho fatto anche queste cose ho vinto due premi con uno con vincenzo crocitti international che mi ha praticamente premiato francesco fiumarella nel 2020 nel 2021 ho vinto il premio come celeste italiana chiesto tutela con il maritato che saluto e poi ho scritto una postfazione nel libro di barbara fabbroni sesso istituzione 2 ho prodotto una canzone del 2021 e adesso sto collaborando con questa ragazza qualche bella presento meri posso meri j e stiamo lavorando con loro con i ragazzi della tech pro records per fare una nuova canzone un nuovo videoclip bello beh come lavorare con alessandro com'è impegnativo ma divertente perché perché impegnativo perché requeto già mi ha capito da conosciuto subito oggi pazzesco noi posso dire che in realtà non non lo vedo così riequieto io ho avuto anche la possibilità di parlarci su whatsapp con alessandro alessandro rispetto credimi a tanti altri se veramente fin troppo gentile poco il requieto no nel senso che gli piace fare tante cose subito esatto vabbè meglio però no sì 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 assolutamente è molto concreto è molto concreto raccontatevi un po allora siete in uno studio quindi lavorate insieme per una canzone mi hai detto alessandro stiamo progettando questa parola parlane un pochino parlane un po' così saluti anche i ragazzi della tech pro ma alessandro ha iniziato a collaborare appunto con i ragazzi della tech pro records per la quale anch'io produco delle canzoni e niente è in corso un lavoro molto interessante e quando esce ragazzi questo lavoro interessante però ancora non abbiamo da data precisa ma è un work in progress peccato perché volevo già invitarvi entrambi in studio qui di persona vediamo se prossimamente dai ragazzi non possiamo dire nulla però insomma le farà piacere anche perché sarà una bella canzone che diventerà un tormentone sicuramente 2023 estate 2023 certo perché poi no ci stavo pensando io proprio a questi tormentone era pure pure primavera ok no perché in primavera però è difficile che escano quelle che poi sono i tormentoni estivi che ci portiamo appresso per tutta l'estate alessandro no un tormentone che va tutto l'anno tormentone ci state dando un indizio però così ci state dando un indizio ci state dando un indizio però non ci potete raccontare nulla no purtroppo non possiamo dire nulla però ragazzi avete avete un sorriso meraviglioso entrambi quindi vuol dire che è una cosa che vi sta appassionando molto e trasmettete gioia a questo è bello trasmettete gioia come si fa con la a scrivere un tormentone ragazzi perché poi potrebbe anche sembrare facile ma facile non è no infatti non ho scritto io ad immaginarlo ad immaginarlo il tormentone come si fa cioè come the ketchup song no ve la ricordate a serie a ecco come è venuta in mente questa è la domanda che mi faccio io ma diciamo che secondo me è più una questione appunto molto musicali deve essere tutto la melodia comunque deve essere un testo semplice e che ti entra subito in testa è così è così e sono importanti social in questo alessandro no i bar instagram non solo ma anche tu lavori sui social alessandro anche voi certo ti ringrazio lavori sui social alessandro no eh ci diamo da fare non è non è una cosa principale diciamo non è che sono influenze quindi non mi ci sento assolutamente però fanno la fanno la loro la loro parte il loro gioco quindi cercheremo di sfruttare anche questi canali ma non e non solo è non solo vediamo abbiamo dietro un bravissimo produttore bello e non vediamo allora non vediamo l'ora allora di di ascoltare questa canzone ragazzi non vedo l'ora che la primavera arrivi sia per il tempo sia per la canzone a questo punto grazie grazie alessandro leggis per essere stato insieme a noi grazie anche mi ricordo il nome Mary G Mary G grazie Mary G per essere stata con noi e ovviamente noi vi aspettiamo in studio Alessandro sa dove siamo va bene ci facciamo una ghiacchierata anche un po' più lunga grazie ragazzi grazie a voi buon proseguimento di giornata grazie davvero ciao 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 grazie per averci portato un sorriso grazie davvero e c'è un altro grande artista che ci porta sempre dei sorrisi è il grande rosario fiorello che è stato incontrato da un altro che ci porta i sorrisi thomas cardinali e noi ve lo facciamo ascoltare allora nel passaggio nel passaggio su rai 2 che cosa cambierà del format che abbiamo visto fino adesso su rai play se ci puoi anticipare qualche ospite magari qualcuno che vedremo parlavi di mandelli in conferenza stampa nel collegamento potremmo fare ma non adesso come più avanti no ma il format non cambia non sarebbe cambiato mai né da rai 1 né rai 2 infatti l'ho detto prima rai 2 rai 3 rai 5 qualsiasi sempre quello è quello che avete visto in questi giorni che voi l'avete visto sicuramente sennò che sareste l'avete visto l'avete visto l'avete visto non so se l'avete visto su solo su instagram o anche su rai play perché su rai play andava visto quello di rai play che vista che a me era quello selvaggio non mi si vedeva perché mi sono messo in mente su rai play mi si vedeva quindi quello è il format la mia paura è che riusci a essere divertente come perché poi le cose cambiano quando c'è tutto perfetto pulito il glass tutto funziona a me piace sempre avere un po' meno perché quando hai meno ti mente di più quando hai di più dice che devo fare adesso c'ho tutto quindi io spero io distruggerò cose io vado lì spacco un po' di glass un po' di vetri in modo da avere spunti no no comunque ci è servito molto queste tre settimane che abbiamo fatto di infatti quando chiesi alla rai guarda iniziamo quel giorno perché io prima voglio mi voglio allenare come allenare allenare fare questa cosa che non è facile farla direttamente in rai già è difficile con le tre settimane figurati che fate tutti e due una domanda a lei gli ho già risposto eccoci noi noi chi patrizia simonetti spettacolo mania fiore spettacolo maria mania mania non ci sbagliamo come definiresti la tua satira e che cosa di figo che fa tutto questo io figo non so solo che però io non so non mi sono mai né definito un satiro né un un comico e né niente le definizioni solamente le danno gli altri però aggiudicato dall'interesse che queste tre settimane hanno suscitato non so voi stessi avete visto sui giornali se apriva il giornale le prime pagine su fiorello catare fiorello 10 mila euro contanti fiorello ponte sullo stretto non è che dici poi sai satire che va sia a destra che a sinistra all'inizio è sempre partito col governo fatto mi ricordo battute su sulla jane de poche 10 mila perché partì con 10 mila euro o adesso è 5 mila poi c'è stato il ponte di suo stretto dove disse ma che fa da fare lo stretto adesso prima doveva fare le strade discorso che facevamo purtroppo questa mattina che prima di fare le cose nuove bisogna aggiustare tutto il paese perché il paese sta in condizioni disastrate e la colpa la devono se la devono prendere i governi da oggi a ritroso per 30 anni quindi tutti tutti perché se il paese oggi è in questa condizione la colpa se la devono prendere tutti compresi i cittadini fiore guarda che comunque coletta ha detto la tua età perché così non puoi andare a san remo perché gli ospiti italiani devono avere più di 70 anni sei d'accordo su questo io ancora non ce l'ho quindi non posso andare ospiti ospite ma che ne pensi di questa novità ti piace di quella novità certo che mi piace ma certo io non la capivo allora io non capivo allora perché un cantante avesse qualcosa in più di quello in gara cioè era una cosa era una cosa scorretta veramente scorretta nei confronti di chi stava lì per fare la gara ci arrivava quello supera col mantello capito arrivava lì io sono super ospite dall'altro andava in gara non ho capito perché va in gara tu ti vuoi andare a san remo vai in gara poi se c'è più di 70 anni diventi diverso sei un'icona e quindi ti festeggiamo festeggiamo la tua carriera a san remo quello va benissimo senti rosario qual è l'emozione di fiorello che dalle 7 e un quarto la sveglia gli italiani gli italiani non tutti purtroppo è una bella sensazione lo faccio da anni guarda che io ho sempre svegliato tutti quando lavoravo nei villaggi era il primo mi svegliato adesso chi sveglia mio condominio sono io io quando parto già mi sentono capo il garage mette in moto lo scooter già ecco fiorello si è svegliato rientri alle 5 del mattino e parto però dalla sveglia così agli italiani come ho detto in conferenza stampa un'alternativa a a quell'ora che a quell'ora tutte le reti danno notizie c'è rai news 24 rai 1 canale 5 rete 4 la 7 stanno tutti con le notizie con il rullo che passa di notizie io sto là in mezzo quindi devi proprio scegliere ok guardo fiorello guardo viva rai 2 e non è facile ci vuole tempo devo abituare la gente che a quell'ora c'è anche quell'opportunità di guardare quella cosa lì l'emozione di tornare a via siago della tua seconda casa e vabbè via siago per me ho fatto tutte le stagioni di viva radio 2 sono state tanti tanti anni quasi otto anni e quindi poi tutto viva rai play e ho scelto di farlo proprio lì proprio perché mi trovo bene e dai ho tirato le orecchie l'altro giorno ho saputo non ti ho sentito ma l'ho saputo ma anche anche il corriere ho tirato le orecchiettine perché per la storia del tennis e capita e può capitare il 5 dicembre quando parte viva radio 2 ci saranno gli ottavi di finale di questo mondiale volevo sapere se al di là della polemica sul Qatar stai comunque seguendo i mondiali se c'è una squadra che ti fa più simpatia chi pensi che possa andare avanti secondo me saranno sempre le solite 4 vedremo se spagna brasile argentina argentina spagna brasile argentina e l'altra non lo so e l'altra non lo so ah scusi vedi che li ho dimenticati ma la france è forse sono fortissimi però se mi consentite io ho già deciso la squadra per cui di fare ed è la spagna per via per luis enrique perché luis enrique merita di vincere tutto luis enrique queste piccole che finora hanno sorpreso queste le piccole cosiddette piccole ci sono state delle belle sorprese fuoco di paglia fuoco di paglia fuoco di paglia tornerà tutto nei ranghi adesso e gli ottavi almeno che beh sarebbe bello per una sorpresa una squadra sorpresa sarebbe bello grande rosario fiorello che domani sarà vorrei dire ospite purtroppo no sarà protagonista di una nuova puntata di idoli su radio cosano campus dalle 11 e 15 alle ore 13 13 18 e 29 tra poco noi ci fermiamo parliamo c'è la pubblicità poi parliamo di calcio raffaele ciccarelli tra l'altro storici verdetti per quanto riguarda il mondiale il portogallo perde con la corea del sud mi pare lo dico subito del sud esatto e il ghana che perde contro l'uruguay 2 a 0 ora capiremo anche chi è passato e chi non è passato questa sera le 20 cameron brasile e serbia svizzera vedremo anche le grafiche totalmente aggiornate tutto questo tra pochi secondi dopo la pubblicità grazie a tutti Grazie per la visione!